salve a tutti ragazzi come va spero bene spero che tutto sia nonostante tutto bene speriamo vada meglio allora come prima cosa vorrei ringraziare i ragazzi del bulldozer dars gruppo che sta continuando lo bt maniera egregia ieri ci sono aperte le iscrizioni per il prossimo torneo abbiamo già più di 42 iscritti stamattina quindi non so adesso se ce ne sono ancora di più in poco tempo quindi sono molto contento vedo che funziona che tutti sono contenti di divertirsi di giocare mi fa molto piacere oggi vorrei affrontare un discorso una domanda che mi hanno fatto sulla posizione del braccio da tenere quando noi tiriamo tipo non so tiriamo al ventidoppio alziamo al 2 doppio lo abbassiamo ok a me fondamentalmente sembrava di tenerlo sempre più o meno uguale nel senso che mi sembrava che fosse sempre nella stessa maniera ok e che cambiasse il punto di lascio di rilascio del braccio quindi ho fatto un video mi sono registrato per vedere questa cosa che adesso vi mostrerò e vedremo quali sono i risultati che ne sono usciti da questa cosa andiamo subito desktop allora prima vi faccio vedere il tiro allora prima vedete tiro al 20 doppio al bull e al 3 ok quindi vediamo dettagliatamente al 20 quando tiro al 20 o vedete sulla linea qui sulla linea sono sopra la riga ok tiro questa freccia essendo più alto vado a tirare al bull e quando tiro al bull sono perfettamente sulla linea poi vedremo che faccio anche tre tiri sul bull e il mio gomito è sempre in questa posizione qui e poi vado a tirare sul 3 vedete che sono sotto la riga quindi più o meno qui sul ventidoppio bull 3 quindi alza basso il gomito di pochissimo perché è pochissimo però non so dal ventidoppio al tre doppio potrebbero essere 5 centimetri di poi se voi guardate alla fine vedete il primo il ventidoppio il 3 doppio l'ho preso questo qua ha sbagliato di poco quindi per cui la posizione era giusta andiamo avanti anche qui faccio lo stesso tiro 20 doppio di nuovo quindi questa è un'altra un'altra visione e vedete che sono sempre sopra sempre sopra la riga tiro lo prendo vado al bull guardate dove è il mio braccio fatto più o meno come prima e vado a tirare al 3 che è sotto la riga quindi questo video mi sembra estremamente interessante anche per me non mi ricordo adesso chi del gruppo mi ha fatto questa domanda adesso mi dispiace mi sfugge e il cellulare è in carica perché si è scaricato quindi non posso guardare chi mi ha fatto questa domanda comunque chiunque sia va bene le tre posizioni esattamente come prima ce le ho avute qui nel secondo tiro vedete vado a tirare al 20 e sono sopra la riga vado a tirare al bull sulla riga vado a tirare al 3 sotto la riga esattamente come nel primo lancio questo è il primo lancio che ho fatto sopra la riga centro riga sotto riga vado a fare l'altro tiro questo il secondo tiro sopra la riga questo è il bull scusate riga sotto la riga avete visto voi che l'ultimo tiro del 3 vedete sono un po più in su di prima in confronto al tiro che avevo fatto prima sul 3 guardate bene dove sono lì e dove sono su questa vedete che è più basso è più basso ed è entrato questo è un po più alto e va leggermente sopra avete capito mi sembra che questa cosa sia abbastanza illuminante anche per me perché non ci avevo mai fatto caso andiamo avanti comunque qui mi sembra che ho fatto se non ricordo male ho tirato al triplo vediamo adesso lo scopriamo subito si ha tirato al triplo al bull e al triple 3 ok analizziamo anche questo tiro allora al 20 triplo vedete che sono leggermente appoggiato sulla linea quindi un po più alto del bull comunque se voi guardate dove è arrivata la freccia vedete che è troppo bassa quindi praticamente aspettate che vado a tirare ecco vedete sono troppo basso perché cioè sono troppo basso infatti la freccia va bassa il bersaglio del bull guardate sulla riga guardate dove parte dove comincio a tirare a fare il tiro è perfettamente sulla linea e lo prendo in pieno vado a tirare al 3 triplo vedete sono leggermente più basso dovevo alzarmi leggermente perché si vede che tra un triplo il bull e il triplo è molto più più stretto il gioco che deve fare il gomito capito questa mi sembra una cosa molto interessante da vedere ragazzi allora qua rifaccio faccio tre tiri sul 20 doppio allora vediamo prima il tiro ok qua così guardate questo è un po' fuori e questo di nuovo dentro allora praticamente guardiamo i tre tiri primo tiro ecco sono sopra vedete la riga come prima anche qui sono sopra ma sbaglio il lancio vedete che il mio braccio si sposta leggermente di là avete notato quando lancio quando lancio vedete che il mio braccio non va via dritto come nel primo guardate guardate il primo il primo va dritto e si infila dentro il secondo si sposta a lato guardate guardate vedete che si sposta di là anche la spalla si muove e la freccia va fuori il terzo che di nuovo dentro guardate è sempre nella stessa posizione perché tutti e tre sono partiti più o meno dalla stessa posizione lanciato dritto e la freccia va dentro non so se mi spiego spero di essermi spiegato bene qui faccio tre tiri al bull ok allora analizziamo questi tiri ho lasciato anche gli errori perché è importante capire anche negli errori andiamo a vedere il primo tiro guardate il braccio dove è dove si trova nella fase di carico sotto la bocca praticamente metto la freccia qua nel carico il braccio è praticamente sulla riga tiro è leggermente basso vado a tirare il secondo vedete che è più o meno come prima caricato quasi uguale vedete lì parte la freccia e sono perfetto e va più o meno va leggermente più alto perché in confronto a quello di prima ero leggermente più alto sulla riga non mi ricordo se è entrata o no perché non si capisce da qua comunque è sicuramente in linea con il rosso anche se è sul verde è sempre in linea sul rosso l'altra era leggermente sotto il rosso la terza guardiamo la terza questa è la seconda la terza vedete più o meno sono sempre lì ma ho sbagliato qualcosa perché mi sono mosso vedete che mi sono mosso con tutto il corpo a differenza di prima che sono rimasto fermo guardate la prima freccia il mio corpo sta praticamente quasi fermo anche nella seconda e invece nella terza mi muovo con la schiena e la freccia va a prendere sul pantano in giro ragazzi riflettete su questa cosa vi sto facendo vedere un video molto importante adesso farò un tiro sul 3 sul 3 doppio e basta almeno mi sembra che era così vediamo si adesso lo vediamo bassissimo vedete ok analizziamo i tre tiri allora vedete sotto la riga però vedete che sono molto più alto sono un centimetro mettiamo così più alto di quando nel tiro di prima l'avevo preso ok infatti va più alto la freccia secondo tiro sono più o meno uguale però l'ho lasciata troppo in ritardo perché l'ho lasciata qua e la freccia va giù bassa a differenza di quello di prima che l'ho lasciata lì io l'ho lasciata lì quella dopo l'ho lasciata lì avete visto la differenza e guardate dove arriva l'ultima è precisa quindi vedete dove il braccio lascia perfetta entra dentro andiamo avanti questo è un video estremamente importante da analizzare per capire ragazzi qui non mi ricordo cosa fa tiro al 20 23 ok scusate mi sono impantanato perché stavo guardando analizziamo questi tre tiri e vediamo gli errori allora il primo tiro vedete sono sopra la riga vado a tirare lascio la freccia lì però mi cade troppo presto vedete praticamente la faccio andare bassa si vede che la faccio partire bassa seconda freccia giusto sopra la riga e non sono alto come quando tiro al doppio 20 però l'ho lasciata troppo male perché mi sono anche un po' scomposto col corpo l'ultima l'ho tirata a cacchio di cana però è entrata perché vedete che non ho mollato il braccio che ho storto il braccio guardate non va limpido il braccio viene storto e ha sbattuto sull'altra ed è entrata dentro a culo se no era fuori anche questa ragazzi questo è il succo del discorso ok andiamo a vedere ancora tiro al 20 vediamo il tiro prima qua mi lamento anche basso ok vediamo questo tre tiri qui allora primo tiro sono sopra la riga leggermente vedete questo appunto qua questo punto qui io sono in questa parte del gomito appoggiato sulla riga ok quindi lasciamo andare il colpo storgo il braccio vedete che storgo il braccio e non lo allungo perché sono un pippero e l'ho tirata alta perché l'ho mollata male secondo tiro vedete che sono sempre più o meno nello stesso punto leggermente più alto di prima però l'ho lasciata molto più dopo perché l'ho lasciata tipo qua ok è andata un po' più bassa l'ultima vedete che sono un po' più alto appoggio lì perfetto lì è il momento in cui parto ok parto lancio e questa è andata diretta perché ho lanciato il braccio tutto lasciato andare tutto il braccio e l'ultima freccia è stata perfetta quindi il mio braccio ha fatto il completo movimento il corpo fermo e la freccia è partita giusta posizione giusta di partenza posizione giusta di rilascio e la freccia è andata veramente bene andiamo avanti vediamo il prossimo tiro qui ho fatto 140 ok quindi due frecce perfette e una praticamente attaccata giusto sotto analizziamo frammento per frammento allora vado a tirare la prima vedete sopra il carico del braccio vedi io vado a caricare lancio vedete sempre la solita posizione 20 triplo guardate dove è il braccio guardate sempre uguale e va leggermente più bassa perché si vede che l'ho mollata leggermente dopo l'ultima guardate sempre quella posizione lì tiro lascia andare tutto il braccio e va dentro adesso qua penso che ci sia la versione rallentata che avevo fatto la guardiamo rallentatore tutta guardate carico il braccio lì è il punto in cui lancio la freccia dove prendo la mira lancio l'ho lasciata in quel punto lì ed è entrata nel secondo tiro che era leggermente più basso la lascio nel cerchietto la lascio un po' più in basso ok guardate sempre nella stessa posizione la lascio lasermente dopo vedete l'ho lasciata praticamente in questo punto qui invece prima l'avevo lasciata più o meno in questo punto qua ok ultimo tiro guardiamo l'ultimo tiro sempre rallentatore la posizione del gomito è sempre la stessa guardate quando vado a caricare è sempre uguale la lascio sempre in questo punto qui e torno a entrare quindi per tornare questa mi sembrava un'ottima cosa per tornare all'inizio per spiegare bene questa cosa molto 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 importante vediamo che quando vado a tirare al 20 doppio il mio braccio sta lì vado a tirare al bull sta in centro vedete sulla riga quando vado a tirare il 3 sono sotto quindi tornando a noi cari ragazzi mi pare che abbiamo risolto il quesito ok sperate che chiudo questa finestra perché se no mi rimbambisco ok quindi mi sembra che abbiamo risolto la questione bisogna mollare la prima io veramente devo essere sincero perché poi abbiamo visto che sui tripli cioè sul triplo 3 e triplo 20 sarà così il gomito che gioca capito il movimento del gomito è così capito tra triplo centro e 3 triplo 20 triplo bull 3 triplo è poco il punto di carico di differenza cambia molto di più quando lancio al 20 doppio o al al 3 doppio allora lì ci sono quei 5 centimetri buoni di cambio quindi per cui grazie a questo video mi sono accorto che noi abbiamo vari movimenti di tiro come diceva Buzz poi nel video di Buzz a Sandberger diceva che noi alziamo il punto di carico no per mirare io ho sempre pensato di essere sempre nella stessa posizione perché carico sempre lì però questo qua come abbiamo visto adesso cambia leggermente posizione non so se mi sono spiegato ragazzi non so se avete compreso tutto quindi per cui ho dimostrato con questo video che Buzz aveva ragione capito aveva ragione perché effettivamente noi lui nel video quando lo spiega proprio va su e giù tanto col col braccio ma lo fa per far capire chiaramente il gioco è insomma mettiamo nei 5 cm no tu al 20 doppio tiri qui qui tiri al bull e qui tiri al 3 triplo la posizione del del gomito spero vivamente ragazzi che questa cosa vi possa interessare mi sembra un video che mi ha illuminato me stesso per poter rispondere non mi ricordo adesso il nome ma mi dispiace mi sfugge il nome di chi mi ha chiesto questa cosa ma non sapevo rispondere nel senso che nella mia testa anche se sentivo ho sentito bass che diceva che si abbassa e alza il gomito mi sembrava sempre di essere nella stessa posizione anche perché poi è poco gioco cioè non è che io faccio così così e così faccio cioè è così il gioco capito cioè è lì non è che quindi non me ne rendevo conto invece è così abbiamo ho dimostrato che questa teoria è giusta anche perché poi avete visto le differenze avete visto anche l'errore quando ho tirato la freccia sul 5 perché ho fatto 20 doppio 5 20 doppio il mio braccio non è andato via dritto il mio braccio ha fatto così perché ho mosso la spada e il 5 mi è partito via storto per dimostrare cosa vuol dire questo uno dimostrare la teoria del braccio del gomito dove va tenuto due che bisogna mollare tutto il braccio bisogna star fermi col corpo non muoversi capito più si riesce ad affinare questa tecnica più precisi si viene cercherò un video dove Van Garman fa magari un 180 dove si vede la visuale di lato e metterò una linea e vedrò questa cosa vedremo insieme se questa cosa ma credo di sì perché il succo è sempre lo stesso capito bene detto questo l'ho fatta lunghissima pensavo di farlo in 5 minuti invece siamo a 22 minuti vi ringrazio tutti quanti vi ricordo il codice sconto bulldozer darts per chi volesse comprare online su dark corner il sito online di fraccette più grande d'europa se scrivete sul codice sconto bulldozer 7 avete un piccolo sconto quindi non lo dico spessissimo ma sappiatelo perché poi sui canali telegram lo spieghiamo sempre questa cosa quindi iscrivetevi al canale telegram abbiamo superato i 400 iscritti ieri mi fa molto piacere siamo sempre di più stai ingrandendo sempre di più abbiamo quattro canali telegram bulldozer darts dove scrivo io le varie notizie bulldozer darts chat dove potete scrivere voi qualsiasi cosa farvi domande chiedere informazioni sulle frecce su quelle cose lì poi c'è l'obbity tournament che è il canale che gestisce praticamente il torneo dell'obbity e l'obbity staff dove scrivono solo loro per darvi le informazioni sulle partite perché sennò dopo nell'altra chat sarebbe un casino magari si perde qualche messaggio e poi c'è anche ancora uno ma quello che ho usato un po' meno questo è quello che volevo dirvi ringrazio tutti i nuovi iscritti sul canale youtube siamo sempre di più abbiamo superato 1600 mi fa molto piacere siamo piccoli ma cresceremo ragazzi mi raccomando vorrei ringraziare poi anche diego per una bella mail che mi ha scritto ti ringrazio diego spero di essere un po' più così non lo so ma speriamo che questo periodo un po' della fuffera finisca prima possibile e venga meglio di prima dopo ok ragazzi statemi bene saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti